insomma Matteo Salvini è stato aggredito da una ragazza a Pontassieme in Toscana vi faccio vedere un attimo il video io ti maledico io ti maledico cioè gli ha strappato la camicia, gli ha strappato il rosario e gli ha detto io ti maledico ma manco nel medio Evo cioè ragazzi ma qui non si tratta di destra, di sinistra questa è la follia cioè pure a me gli ha saputo che me sta sul cazzo a solina ma non è che sia contro per strada gli ha percolletto gli ha strappato i capelli al massimo ministro mi scusi se abbiamo un attimo un caffè gli ha voglio di due parole ma non è che ha percolletto ma non cazzo lo siamo dove siamo? nel medio Evo davvero? dove siamo? A Costantinopoli ma che so ste scende? siamo nel 2020 e ti basso!